Il sindaco è un po' come il capofamiglia di una famiglia allargata. Festeggerà il sedicesimo compleanno il primo settembre, ma ha già un palmarès da fare invidia ad un veterano ed è certamente destinato a diventare un protagonista assoluto nel mondo delle bocce. Riccardo Campanelli, fanese in forza alla bocciofila San Cristoforo di Fano, sta per concludere una stagione da record che lo ha visto conquistare quattro primi posti, tre secondi e due terzi, sia a livello giovanile sia a livello seniores. A livello giovanile, dove di frequente si trova di fronte ai ragazzi con ben più esperienza di lui, ha saputo mettersi al collo la medaglia d'argento alle gare di Loreto e Porto Recanati e quella di bronzo a Lucrezia ed è detentore del titolo italiano del tiro di precisione conquistato a Iesi il 6 maggio 2018, dove ha conquistato 39 punti dei 40 disponibili. Lo dedico alla società, mi ha aiutato e al mio allenatore Giovanni Iacucci e anche alla famiglia che mi porta a far le gare. Senti, cosa ti piace di questo sport? Perché è un ragazzo della tua età, si appassiona al gioco delle bocce, che cosa ci hai trovato? Ci ho trovato anche degli amici e anche delle emozioni, delle belle emozioni, anche se si perde qualche volta, però non importa. Bisogna sempre andare avanti e con la pazienza arrivano i risultati. Allenamento, allenamento e la ricetta è sempre quella? Sempre allenamento. Nel complimentarsi con lui e la sua famiglia e la società che lo sta facendo crescere, l'amministrazione comunale ha voluto premiare Riccardo per i risultati, sin qui ottenuti, sperando che siano di buon auspicio per il futuro. Noi lo seguiamo tutti i fine settimana perché ha scelto di dedicarsi alle bocce, non è da poco perché è un giovane talento, è una premiazione che è un in bocca al lupo, continuare così in un ambiente, diceva prima il sindaco, fertile, che è quello della bocciofile San Cristoforo, che coltiva il lato sportivo e sociale in modo eccellente. Giovani virgulti lo praticano con buoni risultati. Certo, è un gioco dove i ragazzi si avvicinano, si appassionano veramente, come è successo per Riccardo, come sta succedendo per il fratello e altri ragazzini che abbiamo.